Siamo qui, Piero Beltrandi, tra i favoriti del rally, cosa ne pensa di questa leadership che si può dire che voi giocate in casa? Ma guardi, è sempre un problema, se da fuori si dice così va bene perché siamo di casa e poi da tanto corriamo, però è sempre un problema. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.